della strada al di fuori della carreggiata destinata alla circolazione dei pedoni. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli di autostrade, strade extraurbane principali, il conducente può invertire senso di marcia in caso di particolare emergenza. Che avevo invertire? Falsi. Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve effettuare la sosta. Sì, è vero. sono solo lo stato di shock si manifesta con presenza di sudore freddo alla fronte il segnale raffigurato il posto lungo un'autostrada il segnale raffigurato un'autostrada il segnale raffigurato il segnale raffigurato un'autostrada il segnale raffigurato il segnale raffigurato un'autostrada il segnale raffigurato un'autostrada il segnale raffigurato il segnale raffigurato un'autostrada il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli causa probabile di incidenti dovute alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie causa probabile di incidenti dovute alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie vero il segnale raffigurato il segnale raffigurato un'autostrada il segnale raffigurato un'autostrada il segnale raffigurato un'autostrada s'ambato la raffigurato un'autostrada causa probabile di incidenti dovute alla struttura della strada Il simbolo raffigurato si trova sulla spia a luce verde lampeggiante dell'indicatore di direzione azionato. Il simbolo raffigurato si trova sulla spia a luce verde lampeggiante dell'indicatore di direzione azionato. Durante un sorpasso in autostrada può essere causa di incidente l'improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno dei veicoli che precedono. Durante un sorpasso in autostrada può essere causa di incidente l'improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno dei veicoli che precedono. Durante un sorpasso in autostrada può essere causa di incidente l'improvviso spostamento di un sorpasso in autostrada può essere causa di incidente l'improvviso spostamento di un sorpasso in autostrada. di un sorpasso in autostrada può essere causa di incidente l'improvviso spostamento di un sorpasso in autostrada. di un sorpasso in autostrada può essere causa di incidente. di un sorpasso in autostrada. di un sorpasso in autostrada. di un sorpasso in autostrada. Il segnale raffigurato conferma la continuazione del divieto di sorpasso. Il segnale raffigurato conferma la continuazione del divieto di sorpasso. La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra. La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra. La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra. La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra. In autostrada il traino di veicoli in avaria succarreggiate, rampe, svincoli, aree di servizio e di parcheggio è consentito solo ai veicoli di soccorso autorizzati. la svolta a destra la svolta a destra si effettua di eseguire tale manovra. non sono questi veicoli in fronte, non è una grande moda, non è molto bene, ma come i vedi bambini, non è un'attore della bambina, non è l'attore di questo obiettivo. che non puoi fare un po' di questo caso quindi non puoi fare un po' di questo caso non puoi fare un po' di questo caso ok il del Natalna figura l'indica è un'istrata che gli ho scupo è falso? ok mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace in stato di scioglio di teore. Risposta ancora in per favore. Jeffrey, teo nomi a te. La risvolta adesso si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra. Tale manovra, la risvolta. Grazie a tutti. Siamo tutti i nostri amici. Vero Falso Vero 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 Falso 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 Vero Vero Falso 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 Vero 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 Vero